Prosegue la campagna vaccinale dedicata agli over 80. Oggi qui al centro Monaldi di Pesaro sarà somministrato soltanto il vaccino AstraZeneca. Molti anziani si sono già messi in fila. Si sono messi pazientemente in fila, complice la bella giornata di sole che li ha scaldati durante l'attesa. Al centro sociale Monaldi di Pesaro è ripartita la campagna vaccinale riservata agli over 80 e ai docenti. Rispetto a ieri oggi ci sono state meno rinunce da parte degli ultraottantenni, la maggior parte dei quali, nonostante l'attesa, ha deciso di farsi vaccinare con AstraZeneca senza alcun tipo di esitazione. Ieri c'è stata più rinunce, quest'oggi una decina sta andando tranquillamente. Ogni tanto c'è un po' di intoppo, però sul discorso del quarto d'ora, venti minuti, non di più. Non è una grossa fila, sta funzionando bene. È tutto bene, per il momento. Speriamo, vero? No, no, io non ero preoccupato. Non vedeva l'ora? No, non vedeva l'ora. Era meglio di uno che non la pare, però è necessario di farla e l'abbiamo fatta. Non sono contenta, ma lo faccio. Non è contenta perché AstraZeneca? No, 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 no. Per il vaccino lo faccio comunque. Sole, piante in fiore e tanta pazienza. Ma del resto, manca solo una tenda, un ristoro sarebbe completo. Attendiamo con tanta pazienza. Ed è contento di farlo? Ah beh, è necessario, sì. Non lo vorrei, ma tanto oramai. Bravo! No! Ma tanto lo deve fare. Sono qui posto. È fatica a dire se sei contento o se non sei contento. Qualcuno ha aspettato fuori, altri all'interno dei tre gazebo allestiti nel giardino. È imbarazzato perché avere un lavoro così, noi siamo nel terzo mondo, un lavoro così è un posto di miserabile, un'assistenza medica inimmaginabile. Dal lunedì 29 marzo le cose cambieranno perché i vaccini saranno somministrati nella sede unica dell'ex Risto all'interno dell'Iperconad. Uno spazio decisamente più grande rispetto a quello del Monaldi, dove verranno vaccinate almeno 1500 persone al giorno. Abbiamo dato grande disponibilità all'Azure e alla gestione dell'iperossidi per collaborare allo smontaggio e liberare tutta l'area che ospiterà il punto vaccini. Abbiamo anche avuto la disponibilità da parte di signoretti di San Italia di tutta la sua azienda a Villa Fastigi di circa 1000 m2. Quella potrebbe diventare la postazione dove i medici di base possono vaccinare i loro pazienti.